Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info ora voglio parlare con la polsica come ti finiscono i miei tutti i luoghi, pastor Gelas, pastor Kedion, hanno fatto un pollo in polsica Grazie a tutti i nostri amici, sono i nostri amici, sono i nostri amici, pastor Donia, pastor Iocco, pastor Stevo, sono in scuola, La scuola, la scuola, la scuola, la scuola, la gente ha un po' di merda, un po' di merda. La Biblioteca di Ramol e la gente ha un po' di merda, un po' di merda. La scuola, la scuola, la scuola, la scuola, la scuola, la scuola, la luce della Sucola. Grazie a tutti, grazie a tutti.